Musica L'ultima resistenza! Allora siamo arrivati con il nostro irmão... ... 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 Grazie a tutti. 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 Pessimo, l'ouvidio sta colando, soltere la impacienza, noi vamo cobrir. Malico, fora! DNA, indepasso! Malico, fora! DNA, indepasso! Malico, fora! Epa! Tamo junto, familia! Os homens da Paz na Águia Real, mais uma vez, tamo na manifestação pra dizer que o MPLA caiu. Nesse momento, familia, essa música já tá com... Quanto? Você que sabe? Trinta e sete mil visualizações. E próxima semana, vou lançar mais uma música com o tema, o MPLA é o diabo. É o tema da próxima música. Eu sempre vou falar mais uma vez. Também se neutro se tivesse pão, não ia fazer manipulação. Agora não ia fazer manifestação. A manifestação não é o direito do cidadão que tá descondendo. Mas parece que o Agustinho Neto não explicou bem pelo dirigente. O MPLA sempre com ativista reclama por uma justa causa. Não podem lhe prender ou lhe matar, nós queremos que a polícia rouca. O primo ativista que tá preso depois de não ser o malocente. Mas você tava com esse caso porque ele é amigo do presidente. Nunca mais me chama de arroceiro, por favor, senhora Joana Lina. Porque os que roubaram dinheiro tão no falado e abaia na piscina. Depois vão almoçar sem problema no restaurante e comida cara. Fazer por causa de reclamar, dona queres me levar na portoeira. Será que eu não tenho o direito de pedir pra cesta basta baixar? Seja na cidade ou no gueto, vai sempre na polícia me queixar. Esse povo se tivesse água, não ia fazer manifestação. Em 2022 vão gostar, o povo angolano partido em Pelá. Em 2022 vão gostar, em 2022 vão gostar da vitória de um outro partido. Porque ninguém mais acredita no em Pelá, só tem homem bandido. Esistenta espíritu que rotam toda a riqueza de um povo amigo. Muitos angolanos morreram por toda a terra. Nós vamos resistir. A polícia da congresta. Nós vamos resistir. A polícia da congresta. Mamma! Buongiorno! Tuperează! Tuperează! Chiară! Tuperează! Bine! Vă rog! Tuperează! Vă interrompe! Noi siamo qui nella resistenza, non vamo dire che, perché a lungo destes anni tutti pedimos al governo, come per la violenza, la politica sempre è tirata per la juventud, e non consegui fare un vano, in 2022 è arrivato al punto, vivendo 45 anni molto da fuori, non vamo da parola, 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 non vamo da parola. Adesso mi ha detto che un tempo kuantava la parola, non vamo da 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 parola. Sì, 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 sì! 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 Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, 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 Sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì! Sì, sì! 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 Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. ci ved monsieur milioni prof. la professione povere. i ahorita millega mille inglesa e professori di alfabetizzazione che vuoi questa situazione? solo vorrei direvi che le persone hanno Punto si si possiamo cambiare perché le persone l'Irrhe sono e non possiamo vivere perchè la cosa non è giusta in una buona forma e noi sappiamo che la gente ha il potere solo non dicendo la vera ma non è come quando dicendo la vera ma tenta di mettere in prison perchè dicendo la vera le cose possono cambiare qual'è la grande difficoltà che in questo momento io voglio dire che voglio vedere questa cosa in un'altra parte voglio vedere questa cosa in un'altra parte ok, grazie molto come vedete il nostro amico il nostro amico il nostro amico è un pochino attorso il nostro amico attorso la difficoltà la carica il nostro amico la resistenza è sempre qui nella linea della fronte quindi il nostro amico quindi come dice l'amico che non è la Covid è la fome ma vale adesso non è la pandemia non è la pandemia questa è la opportunità che abbiamo non possiamo stare confinati con la fome se fosse come in Francia in cui governo il presidente Macron non cria condizioni antes di confinare il fuoco noi avevamo di obedecer ma non ha la miglior doenza nel mondo che la fome di preferenza levar una bala di più di stare a casa o i non 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 ci 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 in che parte del mondo, ma se vieni qui a Angola, vai ver, mano, noi stiamo con difficoltà, di momento abbiamo un nostro mano baleato per le nostre forze, né? Até oggi stai a casa con la bala nel corpo, niente consegue fare niente, os hospitals locais non conseguono dare soluzione al mano, stiamo con mano a casa, mano. Matteo, cosa hai saputo questa marcha mano? La sua marcha sta sendo molto ordetta e ben organizata, senza violenza, Anche ora abbiamo visto che la marcha sta a avere un saldo positivo e la parte della marcha sta a accompagnare di una forma anche ordeira e stiamo qui, semplicemente, per... ... 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 tenham paciência, credo che sta colando, ma a redmi qui sta molto péssima, già arriviamo.